Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche... Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi va oltre alle storie poco raccomandabili che a volte si instaurano tra un professore e la sua giovane allieva. È una storia più tragica, ma con un epilogo che saprà sorprendervi. Sam Shelton nasce il 9 marzo del 1980 e cresce a Fort Knox, nel Kentucky, dove vive con i genitori, George e Susan, e il fratello maggiore, George Jr. Suo padre è un maggiore dell'esercito americano, con sede a Fort Knox, mentre sua madre è una casalinga. La relazione tra i coniugi, quando Sam ha soltanto 7 mesi, comincia a incrinarsi e termina con il divorzio. Così Susan si trasferisce con i due figli a Freeburg, nell'Illinois, e li cresce da sola. Trova lavoro come insegnante in una scuola elementare. Al contrario, George, il padre di Sam, non contribuisce al mantenimento dei figli e soprattutto non li calcola più. Non va mai a trovarli, non fa una telefonata, non spedisce nemmeno una cartolina per augurare il loro buon compleanno. Nulla. Sembra che con il divorzio non solo si sia lasciato alle spalle sua moglie, ma anche i suoi bambini. Tuttavia, Sam non trascorre un'infanzia travagliata. Certo, assiste ai salti mortali di sua mamma Susan, che fa fatica ad andare avanti, perché lavora, cresce i figli da sola, si occupa della casa e si accolla tutte le spese. Dato che non riceve nessun aiuto economico dell'ex marito, Susan un giorno non ne può più. Si reca in tribunale e consegna una lettera all'ufficiale di comando di George, affinché lo solleciti. Così George inizia finalmente a pagare quanto dovuto per il mantenimento dei figli, ma non vuole comunque avere a che fare con loro. Sam quindi cresce senza un padre e percepisce che qualcosa nella sua infanzia gli manca. Quando va a scuola e vede i compagni con il loro papà, si sente solo e cerca con ostinazione di individuare una figura paterna nella sua vita. Concretamente però Sam sviluppa un legame molto importante sia con sua madre che con sua nonna. Loro lo supportano sempre, compensando l'assenza del padre, e Sam riesce a ottenere le sue soddisfazioni. A scuola se la cava davvero bene ed eccelle negli sport. A parte quanto vi ho raccontato, non si sa altro sull'infanzia di Sam. Quando si diploma al liceo, consigue una borsa di studio alla McHenry University dell'Illinois, proprio grazie alla sua bravura negli sport. Tuttavia, dopo alcuni anni al college, Sam abbandona l'idea di diventare un atleta professionista perché preferisce seguire le orme di sua madre, cioè lavorare come insegnante. Così che fa, sceglie di frequentare un anno in più al college per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. A 21 anni, quando Sam sta per laurearsi, per fargli conseguire la qualifica a cui ambisce, gli viene proposto di svolgere un tirocinio di un anno alla scuola media di Milat, dove dovrà insegnare educazione fisica. Sam accetta l'incarico e diventa professore di una classe di seconda media, e tra le sue studentesse c'è una ragazzina di 12 anni di nome Ashley Reeves, l'altra protagonista di questo caso. Ashley nasce nel 1989 e vive a Milstadt, nell'Illinois, con i genitori, Michael e Michelle, e sua sorella minore, Casey. La dodicenne ama la scuola e lo studio, infatti è un'ottima alunna, ha anche molti amici e condivide un rapporto speciale con Casey. Lei adora follemente Ashley, l'ammira tanto e crede sia la migliore sorella maggiore che si possa desiderare. Anche con i genitori Ashley ha un ottimo rapporto e in casa loro c'è un'atmosfera di tranquillità e pace. Passa un anno, Sam quindi termina il suo incarico di insegnante presso la scuola media di Milat, frequentata da Ashley, e ottiene la laurea. In seguito Sam trova lavoro in una scuola elementare a St. Louis, dove rimane per un paio di anni. Nel 2004, a 24 anni, Sam inizia a insegnare in una scuola superiore a Fribourg. È professore di educazione fisica e educazione stradale, e viene descritto come un ottimo insegnante, adorato sia dagli studenti che dai colleghi docenti. Insomma, Sam svolge al meglio la sua professione. È giovane, quindi ha molta energia e sa come relazionarsi agli studenti, tuttavia ad alcune studentesse piace un po' troppo. Lo apprezzano proprio perché è giovane, ha una corporatura atletica e un modo di fare affascinante. Diverse alunne hanno una cotta per lui, e Sam ama ricevere le loro attenzioni, anche se provengono soprattutto dalle ragazzine più piccole di età. Fuori dal contesto scolastico, Sam conduce una vita sociale abbastanza attiva, è noto per intrecciare numerose relazioni, e ogni fine settimana frequenta il Wild Country Club, dove si balla la musica country. Ovviamente nutre una grande passione per lo sport, nel tempo libero ama andare in palestra ad allenarsi, o giocare a baseball e a basket. Inoltre, Sam si afferma anche nel wrestling. È un campione della zona, nel club di wrestling professionistico di cui fa parte, e si fa chiamare l'insegnante, oppure Mr. Disciplina, e guadagna 50 dollari a match. Arriviamo a febbraio 2006, Sam sta per compiere 26 anni e si imbatte in una sua allieva del passato. Proprio lei, Ashley Reeves. Ashley ora ha 17 anni e frequenta un liceo vicino a quello in cui insegna Sam. Nella vita di Ashley tutto procede bene, prende buoni voti a scuola, è molto socievole, infatti ha un sacco di amici, ed è fidanzata da circa due anni con un ragazzo di nome Jeremy. Nel febbraio del 2006, Ashley e le sue amiche partecipano a un festival a St. Louis, dove si divertano, scherzano e ridono. Ed è proprio in questa occasione che le ragazze incontrano Sam e lo riconoscono, quindi si mettono a parlare con lui. Quando Sam ricorda che Ashley era una sua studentessa alle scuole medie, inizia ad attuare il suo fare affascinante, flirta con lei e con le sue amiche. Sam ama ricoprire il ruolo dell'insegnante di bell'aspetto, per cui le ragazze giovani perdono la testa. Mentre chiacchierano, Sam scopre che Ashley è una giocatrice appassionata di basket, proprio come lui, quindi la invita a disputare una partita in privato. Ashley accetta e quando i due si incontrano per giocare, Sam cerca ancora di affascinarla. È chiaro che ha voluto adescarla. Lui è più grande di nove anni, è un uomo adulto che riveste un ruolo autorevole, quello del professore, e dunque occupa una posizione di potere. C'è un evidente squilibrio tra i due, lui ha una maggiore influenza su di lei. Sam continua a flirtare con Ashley, probabilmente le rivolge dei complimenti per lusingarla, e la fa sentire bene. È da questo momento che i due iniziano a frequentarsi spesso. Le sessioni private di basket diventano ricorrenti, poi si incontrano anche per andare al centro commerciale, proprio come se fossero una coppietta al primo appuntamento. Si scambia i numeri di telefono e Sam invia messaggi e chiama Ashley più volte al giorno. Sembra proprio che lui stia sviluppando una sessione per lei e non passa molto tempo prima che Sam convinca Ashley che stanno vivendo un rapporto romantico, ma l'insegnante sottolinea che la loro deve assolutamente rimanere una relazione segreta. Vi ricordo che Ashley ha un fidanzato, Jeremy, di cui era molto innamorata, e Sam man mano comincia Ashley a mentirgli. Ashley passa sempre meno tempo con Jeremy e le poche volte in cui lo fa Sam le manda messaggi continuamente. Tra l'altro Jeremy ha il corrente che la sua fidanzata e Sam si vedono, ma crede che siano soltanto amici. Le settimane passano e Sam continua a sentire Ashley. L'insegnante vive con sua madre e sua nonna, ma le due donne spesso non sono a casa, quindi Sam ne approfitta per invitare Ashley da lui. La loro relazione diventa intima perché i due cominciano ad andare a letto insieme. Nell'Illinois l'età del consenso si raggiunge a 17 anni, quindi in teoria quella di Ashley sarebbe una scelta consapevole. Tuttavia, quando un partner si trova in una posizione di potere e autorità rispetto all'altro, si parla di consenso dopo i 18 anni compiuti. E dovrebbe essere questo il caso di Sam, un insegnante in grado di esercitare una forte influenza sulla ragazza. Eppure Sam non importa. Lui è un predatore. Infatti sta anche con un altro adolescente. Non sono noti i dettagli su quest'ultima, ma si sa con certezza che ha 18 anni, quindi legalmente ha raggiunto l'età del consenso. Anche questa ragazza proviene da una scuola diversa da quella in cui Sam insegna. Tornando alle relazioni tra Sam e Ashley, questa va avanti da più di due mesi, ma rimane nascosta nell'ombra del segreto. Arriviamo a giovedì 27 aprile 2006. Ashley si sveglia, si prepara per andare a scuola e si siede al bancone della cucina per fare colazione con la sua famiglia. Dice ai genitori che dopo le lezioni sarebbe andata a fare un colloquio per un lavoro part-time, poi a giocare a basket con le amiche. Quindi sarebbe rientrata dopo cena. I genitori di Ashley si fidano di lei, dunque le rispondono che non c'è alcun problema, purché torni a casa entro le 22, e lei promette che sarebbe rientrata in tempo. Ashley quindi va a scuola, si incontra con il suo fidanzato Jeremy e gli chiede di poter prendere in prestito il suo SUV per andare al colloquio di lavoro. Jeremy non ha bisogno della macchina quella giornata, dunque ha consente. Dopo la scuola, quindi Ashley si mette alla guida della macchina di Jeremy, lo saluta e va al colloquio di lavoro. Sostenuto il colloquio, si dirige verso un campo da basket nell'Ederman Park, nei pressi della città in cui vive. Ashley ha detto che deve incontrarsi con le amiche per giocare a basket, ma noi sappiamo bene che in realtà, vedrà Sam, quello è un posto in cui si incontrano sempre. Tuttavia, questo appuntamento è diverso dal solito, perché Ashley sente il bisogno di dire a Sam qualcosa di importante. Quando i due salgono nella macchina dell'insegnante, Ashley gli confessa che non sa più cosa prova per lui. Nelle ultime settimane è stata molto combattuta riguardo alla loro relazione e ora è giunta alla conclusione di aver commesso uno sbaglio, quindi vuole rompere con Sam. Sam però non è affatto d'accordo, anzi è furioso perché Ashley ha preso il controllo della relazione. Insomma, come osa mollarlo? Oltre alla ferita all'orgoglio, Sam è anche preoccupato delle possibili conseguenze di questa rottura e se Ashley raccontasse a qualcuno della loro relazione? Sam, ormai fuori controllo, si slancia dal posto di guida e afferra il collo di Ashley, seduta accanto a lui sul sedile del passeggero. Prova a soffocarla. Mentre Ashley urla e scalcia, cercando di liberarsi, Sam le stringe il collo, sempre più forte. Ashley non ha alcuna possibilità di scappare. Sam ha dentro così tanta rabbia dentro di sé e continua a stringere con maggiore intensità, finché sente un forte schiocco. Il suono proviene dall'osso del collo di Ashley, che si è spezzato. Ashley quindi smette di lottare, è ormai completamente inerte. Ora è Sam a essere assalito dal panico, convinto di averla uccisa. Ashley è crollata sul sedile dell'auto accanto a lui e non si muove più. Sam, ancora in macchina, si guarda intorno per vedere se qualcuno ha assesito alla scena. Siccome nei dintorni non c'è nessuno, decide di nascondere le sue azioni per farla franca. Senza nemmeno controllare se Ashley abbia ancora battito, Sam salta a una conclusione immediata. Deve liberarsi del suo corpo. Innanzitutto pensa ad allontanarsi dal parco, una zona che Sam frequenta spesso e dove è conosciuto perché gioca a basket lì. Decide così di guidare verso un altro parco a circa dieci minuti di distanza, chiamato Citizens Park. Qui l'insegnante parcheggia la macchina e siccome non c'è nessuno in giro, trascina il corpo di Ashley in una zona boschiva lì vicino. È in questo momento che la giovane vittima torna a mostrare dei segni di vita. Ashley non è morta, anche se ha il collo rotto. Mentre approfondivo questo caso, ho sperato più volte che Sam facesse la cosa giusta, ovvero chiamare un'ambulanza. Ma questa opzione nemmeno gli sfiora la mente, piuttosto Sam pensa che ora deve davvero ucciderla. Quindi, immerso nel bosco, riprende a soffocare Ashley. Le sue mani le stringono di nuovo al collo per diversi minuti. Ashley si contorce, le fuoriesce della schiuma dalla bocca, è ovviamente ancora viva. Per farla finita, Sam si sfila la cintura dei pantaloni, la avvolge intorno al collo di Ashley e inizia a stringere più forte che può, con intensità crescente. Ashley ha la bava alla bocca, la lingua le sporge all'esterno, emette dei gorgogli e il suo incarnato diventa di colore grigio-blu. Questa visione turba il suo spietato carnifice, che evita di guardarla, rivolge gli occhi altrove mentre continua a tirare la cintura. Poi gira Ashley a pancia in giù per orientare la sua faccia verso il terreno, le risistema la cintura attorno al collo, affonda il ginocchio sulla parte bassa della schiena della vittima e continua a soffocarla. Tira così forte che la cintura si spezza. Sam ora è convinto che Ashley sia morta. Il suo piano è simulare che uno sconosciuto, lì nel bosco, si è imbattuto per caso e nella ragazza e l'abbia uccisa. Così copre il suo corpo con foglie e bastoni e lo abbandona, torna nella sua macchina e mette in moto. Sam è certo di passarla liscia. Secondo lui, nessuno, ma proprio nessuno, potrà collegarlo ad Ashley perché la loro relazione era segreta. Inoltre, Sam non frequenta il Citizens Park e dunque nessuno l'aveva visto. La polizia non avrebbe sospettato di lui, quindi. È chiaro che Sam non prova alcun rimorso per ciò che ha fatto. Infatti, subito dopo l'omicidio va a ballare nel locale di Musica Country. Non ha subito alcun crollo nervoso e non ha neanche versato una lacrima. Passa la serata a ballare spensierato senza preoccuparsi di ciò che ha appena fatto ad Ashley. Più tardi, intorno a Luna, mentre Sam lascia il locale, i genitori di Ashley si stanno chiedendo dove Diamine sia finita la figlia. Sarebbe dovuta tornare entro le 22 ma non è ancora rincasata e questo è davvero molto strano perché Ashley è una ragazza responsabile e soprattutto puntuale. Le telefonano ripetutamente ma non ricevono risposta. Allora provano a chiamare Jeremy, il fidanzato di Ashley. Lui però le dice che non la vede dal pomeriggio quando le aveva prestato alla macchina dopo la scuola. Seriamente preoccupati, i genitori di Ashley contattano tutti gli amici della famiglia ma nessuno ha notizia di lei. Infine, la mamma della ragazza, Michelle, ormai convinta che sia successo qualcosa di allarmante, chiama la polizia. Spesso, quando a scomparire sono degli adolescenti, la polizia aspetta qualche ora prima di avviare l'indagine perché i teenager sono soliti stare fuori fino a tardi per poi tornare tranquillamente a casa. Ma il tono di voce di Michelle fa capire agli agenti che la famiglia è davvero in preda al panico e la donna teme fortemente che a sua figlia sia accaduto qualcosa di brutto. Dunque, la polizia comincia ad agire in fretta. Alcune pattuglie vengono immediatamente incaricate di cercare Ashley e in brevissimo tempo individuano l'automobile di Jeremy che la ragazza aveva preso in prestito. Si trova all'Etherman Park nel parco con il campo da basket dove Ashley avrebbe dovuto giocare con le amiche. Gli investigatori capiscono presto che la macchina era stata abbandonata perquisiscono anche l'area intorno al parco ma non trovano Ashley. Arriva il mattino successivo e ormai i genitori di Ashley stanno letteralmente impazzendo. La polizia decide di intensificare le indagini e interroga ogni possibile sospettato iniziando dal fidanzato Jeremy che viene condotto alla stazione di polizia. Tuttavia il ragazzo ha un alibi davvero solido e agli agenti tra l'altro basta parlare con lui cinque minuti per rendersi conto che non è coinvolto. Poi interrogano alcuni amici di Ashley e decidono di concentrarsi su un elemento in particolare il basket. Già perché Ashley aveva detto di dover disputare una partita in quel parco dove è stata trovata la macchina di Jeremy. Tutti e dico tutti gli amici di Ashley durante l'interrogatorio dicono presto a poco la stessa cosa ovvero oh probabilmente doveva incontrare Sam Shelton lui è un insegnante di educazione fisica lo incontra sempre per giocare a basket. Infatti anche se Sam aveva chiesto ad Ashley di mantenere segreta la loro relazione lei in realtà non aveva tenuto tutti all'oscuro della frequentazione ed è anche un atteggiamento che considero abbastanza normale per una ragazza di 17 anni onestamente. La polizia così scopre questo risvolto che reputa strano perché un insegnante un uomo adulto si incontra con una ragazzina per giocare a basket. I detective dunque concludono che devono assolutamente interrogarlo quindi richiamano Jeremy e gli fanno qualche domanda su questo professor Shelton. Jeremy ammette che sa chi è Sam che Ashley e lui si vedevano spesso che l'insegnante è un bravo ragazzo e non le avrebbe mai e poi mai fatto del male. Intanto i genitori di Ashley decidono di fare delle indagini per conto proprio senza attendere passivamente gli sviluppi della polizia e onestamente non li biasimo quindi per tutta la mattinata cercano di procurarsi i tabulati telefonici di Ashley per vedere con chi era in contatto. Fortunatamente il numero di Ashley è intestato a sua mamma dunque riescono facilmente a ottenere questi tabulati dalla compagnia telefonica. Esaminando tutte le chiamate in entrata e un'uscita i genitori di Ashley notano che un numero appare più e più volte ogni singolo giorno. Non è quello di Jeremy né di nessuno dei suoi amici in realtà non sanno a chi appartiene dunque decidono di chiamare per dare un'identità all'intestatario. Quando l'insegnante risponde dice pronto sono Sam chi parla? e loro gli domandano siamo i genitori di Ashley sai per caso dove è nostra figlia? Sappiamo con certezza che le hai telefonato più volte quindi chi sei tu? Sam probabilmente sente lo stomaco contorcersi ma tenta di sembrare naturale e quindi risponde di sì conosce Ashley perché ogni tanto si incontrano per giocare a basket ma aggiunge che di recente non l'ha vista dunque non ha idea di dove sia. Saluta tutti e chiude bruscamente la chiamata. Ora aggiungo un altro commento personale Sam oltre a essere un feroce criminale è anche un grandissimo stolto ha ucciso Ashley il giorno precedente e l'ha lasciata in mezzo a un bosco certo che nessuno lo avrebbe collegato alla sua morte il giorno dopo però riceve una chiamata da un numero sconosciuto e non solo risponde ma si identifica pure dice subito il suo nome questo geniaccio oh non fraintendete mia per carità sono contenta che si sia comportato così agevolando le indagini ma mi sorprende che sia stato talmente sprovveduto i genitori di Ashley ovviamente non si fidano per niente di questo Sam non avevano mai sentito parlare di lui prima d'ora e reputano strano il suo comportamento durante la chiamata per di più quest'uomo aveva telefonato alla figlia parecchie volte fin troppe quindi contattano i detective e li informano Sam dovrebbe essere un soggetto di loro interesse Sam dopo essere andato a ballare era rincasato poi la mattina seguente era andato al lavoro come se nulla fosse successo quando la polizia va a cercarlo nella scuola superiore dove lavora lui sta effettivamente svolgendo una lezione gli agenti allora lo fanno uscire dal campo da baseball e lo portano alla stazione di polizia per interrogarlo gli investigatori gli rivolgono subito delle domande sulla sua relazione con Ashley gli chiedono quando l'ha vista l'ultima volta e perché la incontra così spesso è un po' strano Sam cerca di difendersi dicendo che ogni tanto si dava un appuntamento per giocare a basket e che qualche volta si erano abbracciati per salutarsi abbracciati per salutarsi avete capito bene ora la polizia intuisce che Sam sta mentendo e lo mette sotto pressione e gli rivela che secondo alcuni amici di Ashley tra loro due c'era qualcosa di più intimo così Sam inizia a crollare di punto in bianco afferma ok c'è qualcosa che devo raccontarvi voglio che voi lo sappiate per primi non ci siamo mai baciati Sam ripete per tre o quattro volte questa frase non ci siamo mai baciati sembra quindi molto importante per lui ribadire questa informazione peccato che poi continui dicendo ma abbiamo avuto un rapporto intimo una volta in macchina però non ci siamo mai baciati Sam aggiunge che il giorno dopo aver avuto quel rapporto con Ashley si era sentito male si era sentito in colpa non so voi ma io non riesco a immaginarmi Sam che si sente in colpa per niente chiaramente continua a mentire pensando a un modo per farla franca si è già pentito di aver ammesso di essere andata a letto con una 17enne questo è certo gli agenti continuano a fargli sempre più pressione e Sam si ritrova a rivelare altri dettagli la polizia gli chiede dove si trovava il giorno della scomparsa di Ashley e Sam anche in questo caso cede dice che l'ha incontrata all'Ederman Park e che sono saliti nella sua macchina per parlare ma mente raccontando che era lui a voler terminare la relazione con lei non il contrario ma noi lo sappiamo che è accaduto esattamente il contrario Sam però afferma che stava cercando di rompere con Ashley perché nelle ultime due settimane la ragazza aveva sviluppato un'ossessione per lui Sam cerca di dipingere Ashley come un adolescente appiccicosa spiega che quando le ha comunicato di voler mettere un punto alla loro storia lei è completamente impazzita in pratica scalciava e urlava in preda alla rabbia allora Sam le ha ordinato di scendere dall'auto lei lo ha fatto e lui è ripartito in macchina lasciandola sul ciglio della strada questa è la sua versione il detective chiede e conferma Sam l'hai abbandonata sul margine della strada e non sei tornato a controllare? voglio dire lei è solo un'adolescente l'hai lasciata da sola non sei tornato indietro? Sam risponde di no spiegando che ha lo stomaco molto debole se per caso Ashley fosse stata investita lui non sarebbe riuscito a sopportare la vista del suo corpo ferito riverso sul suolo e a far fronte alla situazione si definisce come uno che non può nemmeno guardare i film horror dunque Sam vorrebbe suggerire agli investigatori che Ashley possa essere stata investita da un'automobile ma loro intuiscono che lui sa molto di più su quello che è accaduto quando Sam fa una pausa per andare al bagno si imbatte nel detective che è a capo delle indagini sul caso di Ashley un uomo che conosce Sam fin da quando era un bambino argolato nei Boy Scout l'ispettore capo che sa qualcosa sul passato di Sam ora vuole interrogarlo in prima persona pensando di essere in grado di ottenere delle risposte dal sospettato così durante l'interrogatorio per scuoterlo fa leva su un affetto che è molto caro a Sam così durante l'interrogatorio per scuoterlo fa leva su un affetto che è molto caro a Sam ossia sua nonna il detective quindi gli dice cosa penserebbe tua nonna lei ti ha sempre insegnato a dire la verità né la tua nonna né la tua mamma ora sono qui ma tutti i loro insegnamenti sono dentro di te te li porti dietro tutti i giorni e sappiamo che non ci stai dicendo la verità ma devi farlo devi raccontare la verità per tua mamma e per la tua nonna questo stratagemma funziona infatti Sam inizia a piangere a quanto pare la nonna e la mamma sono il suo punto debole l'ispettore capo lascia la stanza prevedendo che Sam è sul punto di confessare quando il detective ritorna Sam cambia versione dicendo che dopo il suo tentativo di troncare la relazione Ashley oltre a gridare e scalciare ha cercato di aggredirlo lui allora ha fermato la macchina e non ha avuto altra scelta ha dovuto trascinarla fuori dall'auto e nel farlo l'ha presa per il collo Sam come sapete sta ancora mentendo ma si sta avvicinando alla realtà dei fatti aggiunge che non si è reso conto della forza che ha impiegato e che ha accidentalmente rotto il collo ad Ashley insomma è stato un incidente quando Sam ha capito che Ashley era morta l'ha trascinata in una zona boschiva da quelle parti e ha coperto il suo corpo con delle foglie poi è andato al country club a ballare i detective dunque gli chiedono beh lei dov'è dove l'hai lasciata e Sam risponde con freddezza ho bisogno di mostrarvelo Sam guida così gli investigatori sul posto in cui ha lasciato il corpo di Ashley è la tarda notte del giorno successivo alla scomparsa della ragazza Sam è stato interrogato dalla polizia per 12 ore questo è il tempo che è servito per farlo crollare e confessare onestamente non riesco nemmeno a immaginare cosa intanto stessero passando i genitori di Ashley Sam come detto porta i detective al Citizen's Park il posto in cui ha lasciato Ashley tuttavia non riesce a ricordare esattamente dove l'ha abbandonata inoltre è notte e questo lo confonde ancora di più i detective insieme a Sam esplorano la zona boschiva con una torcia ma non riescono a trovare il corpo di Ashley dopo circa mezz'ora che camminano nel bosco iniziano a pensare che Sam li stia prendendo in giro infine dopo un altro po' di tempo il gruppo si imbatte in un corpo disteso tra le foglie quello di Ashley quando gli investigatori si avvicinano si verifica un fortunato colpo di scena perché Ashley sembrava morta ma dopo un esame più attento la polizia si rende conto che il petto della ragazza si solleva e si abbassa quindi sta respirando onestamente io mi sono stupita la resilienza di Ashley è incredibile nonostante Sam avesse provato per ben tre volte a ucciderla lei è sopravvissuta certo ahimè non può parlare hai gli occhi e la bocca aperti ma non sembra presente a se stessa inoltre la sua pelle è diventata tutta rossa perché è ricoperta ovunque dai morsi degli insetti Ashley dimostra una forza che sbalordisce è rimasta inerte nel bosco con l'osso del collo rotto incapace di muoversi e di parlare e respirando a fatica per ben trenta ore i paramedici si precipitano immediatamente da lei Ashley viene portata in ospedale mentre i suoi genitori vengono avvistati la loro figlia è stata trovata ed è viva prima stentano a crederci poi sono letteralmente al settimo cielo purtroppo presto ricevono anche la terribile notizia che Ashley ha scarse probabilità di sopravvivere perché è davvero in condizioni tragiche intanto i detective riportano insieme alla stazione di polizia per interrogarlo di nuovo scoprire che Ashley è ancora viva sciocca anche lui nel profondo l'aveva strangolata per due volte a mani nude e poi ancora con la cintura aveva stretto così forte da romperla ma Ashley è sopravvissuta Sam confessa soltanto ora i vari e veri modi in cui ha tentato di ucciderla ma continua a sottolineare che si era trattato di un incidente come no l'ha accidentalmente strangolata per tre volte di cui una usando la cintura ma lui non voleva mica farlo di proposito Sam ha pure il coraggio di affermare che non aveva mai avuto intenzione di farle del male ragazzi e ragazzi cioè rendetevi conto rendetevi conto spiega che dopo averle rotto il collo aveva completamente perso la testa lui voleva solo fare in modo che scendesse dall'auto l'aveva afferrata per questo ma scatenando delle conseguenze che lo avevano gettato nel panico più totale ecco perché l'aveva strangolata per suggerire che qualcun altro l'avesse uccisa ora è evidente che la sua storia non ha senso giusto? ok tuttavia ai detective poco importa che Sam voglia attribuire tutto a un incidente perché lo arrestano e l'accusano di tentato omicidio se poi la povera Ashley non riuscirà a sopravvivere l'accusa a lui imputata cambierà in omicidio a Sam non preoccupa la salute di Ashley si interessa soltanto di se stesso e si interroga già sulla vita in prigione per questo domanda all'ufficiale se potrà procurarsi una soluzione per le lenti a contatto da indossare nel carcere e chiede il permesso di portare con sé il proprio spazzolino ma non è finita qui perché Sam vuole sapere anche se potrà utilizzare un bagno privato in prigione perché fa fatica a urinare in pubblico povera Stella se questo non gli verrà concesso per lui sarà un dramma insomma sembra che sia in procinto di soggiornare in un hotel e non dietro le sbarre nel frattempo Ashley non può muoversi né parlare né mangiare o bere non può deglutire è praticamente paralizzata mi chiedo se Sam oltre a valutare il livello di comfort della detenzione abbia riflettuto almeno un secondo su come ha ridotto questa povera ragazza che nella migliore delle ipotesi ha davanti a sé una lunga lunghissima convalescenza a seguito di svariati esami eseguiti in ospedale si conclude che la gola di Ashley è completamente schiacciata dunque è a malapena in grado di inalare ossigeno sufficiente il che la porta a subire molteplici lesioni cerebrali traumatiche come detto a causa di questi danni Ashley è ancora completamente paralizzata è collegata al supporto vitale i suoi occhi sono aperti ma persi nel vuoto la sua bocca è aperta ma non riesce a muoverla i medici temono che sia cerebralmente morta e che non si riprenderà mai i suoi genitori non lasciano mai il suo capezzale sperano con tutto il cuore e pregano che Ashley si riprenda in qualche modo che alla fine per fortuna Ashley inizia a mostrare segni di reattività sbalte le palpebre una volta per dire sì e due volte per dire no ma chiariamo i suoi genitori sono comunque felicissimi Ashley è davvero una guerriera ha combattuto e sta ancora combattendo con davvero grande tenacia le settimane passano Ashley diventa sempre più forte anche se la sua è una lotta continua fatta di piccoli traguardi ed enormi difficoltà perché i suoi muscoli non funzionano più correttamente e deve imparare di nuovo tutto a muovere il corpo a deglutire a parlare a camminare dopo due mesi di ricovero in ospedale Ashley viene finalmente dimessa e torna a casa tuttavia la guarigione è ancora una meta lontana il percorso che ha davanti a sé è lungo e ahimè pieno di ostacoli ma sono davvero felice di dirvi che questo caso si conclude bene perché poi Ashley si è ripresa completamente esatto questa è la storia di una ragazza che è sopravvissuta a un'aggressione brutale e sembra davvero un miracolo che ci sia riuscita non so come Ashley sia stata in grado di sopravvivere per 30 ore con il collo rotto abbandonata in mezzo a un bosco senza nessuno che le prestasse soccorso ma la sua straordinaria forza mi suscita un'immensa gioia spero con tutto il cuore che questa ragazza che oggi è diventata una donna abbia compreso fino in fondo la portata immensa della sua resilienza e spero che le persone intorno a lei glielo ricordino ogni volta in cui è triste o avvelita per qualcosa perché Ashley è davvero una forza della natura dunque quando Ashley riesce a parlare gli investigatori le chiedono di ricostruire cosa le era successo lei però purtroppo non ha alcuna memoria dell'aggressione non ricorda di essere stata nella macchina di Sam non ricorda la loro discussione non ricorda che lui l'aveva presa per il collo aveva tentato di soffocarla non ricorda lo strazio di essere rimasta ferita nel bosco per 30 ore però c'è da dire che una cosa la ricorda ovvero che voleva interrompere la relazione con Sam e non il contrario infatti già nei giorni precedenti all'assalto il suo pensiero costante era uscire da quella situazione voleva quell'uomo fuori dalla sua vita ora i detective sanno cosa aveva spinto Sam ad aggredire la 17enne intendeva punire Ashley per la sua volontà di rompere con lui o aveva tentato di metterla a tacere per sempre per evitare che lei rendesse pubblica la loro relazione illegale una di queste due ipotesi corrisponde al movente in attesa del processo Sam viene concessa la libertà su cauzione e lui torna a casa da sua madre e a questo punto nella storia rientra in scena l'altra giovane ragazza una 18enne con cui il violento professore intratteneva una relazione infatti mentre agli arresti domiciliari le manda un messaggio su myspace in cui le scrive che la faccenda con Ashley è un malinteso insomma si era trattato di un incidente poi le chiede se può raggiungerlo a casa sua fortunatamente i genitori della ragazza leggono i messaggi hanno già scoperto chi è davvero Sam un egocentrico insegnante di 26 anni che aveva appena tentato di uccidere un altro adolescente dunque fortunatamente impediscono alla figlia di avvicinarsi a lui Sam ora è completamente solo e cerca di togliersi la vita assume un cocktail di farmaci da prescrizione e alcol dopo essersi scritto sul petto la frase non rianimatemi tuttavia sua madre lo trova in tempo i paramedici accurrono e riescono a salvargli la vita quando Sam torna vigile si scaglia contro i soccorritori tirapugni sputa loro in faccia e arrivato in ospedale rivolge numerosi insulti razzisti alle infermiere la data del processo è sempre più vicina e Sam continua a dichiararsi innocente ripetendo che si era trattato di un incidente infine siccome capisce che le prove contro di lui sono innumerevoli e schiaccianti accetta un patteggiamento per ottenere una pena ridotta la famiglia della vittima e anche Ashley stessa approvano l'accordo perché in tal modo la ragazza non dovrà affrontare il processo che sarebbe stato davvero molto doloroso per lei avrebbe rivissuto un trauma dunque Sam Shelton si dichiara colpevole di tentato omicidio di primo grado e nel 2007 viene condannato a 20 anni di prigione questo caso ha avuto luogo nel 2006 ma è noto che Sam avrà diritto alla libertà condizionale anche prima cioè ad aprile del 2024 a soli 43 anni magari potrà rifarsi una vita ma c'è da sperare che non provi di nuovo a rovinare quella di qualcun altro Ashley Reeves oggi conduce una vita normale con il marito e i loro due figli è riuscita a trovare la felicità e una stabilità nonostante gli eventi traumatici che ha dovuto sopportare in passato non solo ha superato le più hardwe sfide fisiche ma ha anche trovato la forza per guarire dalle ferite emotive tornando ad abbracciare la vita con ottimismo la sua decisione di lavorare come vadante riflette la sua natura compassionevole e il suo desiderio di aiutare gli altri Ashley ha scritto un libro e dalla sua storia è stato anche tratto un film che celebra la sua infinita determinazione una qualità che però avrebbe potuto emergere in tante altre situazioni non spiacevoli nessuna donna deve essere sottoposta alla violenza e nessun uomo deve ritenere inammissibile l'essere lasciato io ho finito di parlare di questo caso e sono onesta sono davvero felice di potervi portare questi casi penso che Sam sia un uomo spregevole e mi chiedo quanta audacia avesse nel continuare a sostenere che quello che lui ha fatto ad Ashley fosse un incidente l'audacia di questo uomo fin dove si è spinta mamma mia ovviamente riconosco cioè oddio in alcuni casi in Italia per un omicidio si prendono vent'anni io però riconosco che vent'anni sono un po' pochi per ciò che ha fatto però effettivamente ha compiuto un tentato omicidio io non lo considererei riabilitato un uomo del genere cioè non lo so non non saprei non saprei non so neanche se è un detenuto modello oppure se fa un po' di casino in carcere non ho trovato queste informazioni ma sono un sacco felice per Ashley e spero realmente che Sam abbia capito il suo errore la cosa che mi preoccupa però è che non ha mai mostrato pentimento e quindi noto una mancanza di empatia abbastanza profonda questo non mi fa pensare bene assolutamente mi fa dubitare assolutamente di Sam e insomma spero che non faccia altri crimini non commetta altri crimini una volta che sarà uscito di prigione detto questo voi cosa ne pensate di questo caso cosa ne pensate di Sam fatemi sapere assolutamente quali sono le vostre opinioni come vi dico sempre ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.